Chi è che grida aiuto? Chi è che grida aiuto? Vernazza, è il primo pomeriggio di martedì. Le immagini mostrano il borgo delle Cinque Terre spazzato via dal nubifragio e restituiscono lo sgomento e la paura di chi in poche ore ha visto il proprio paese cancellato da un fiume di terra e di detriti. La furia dell'acqua inghiotte tutto ciò che incontra sul suo cammino e lo trascina fino al mare. In tutto il paese non è rimasta nemmeno un'auto, sono state tutte sommerse dalla piena. L'ho spaccato il ponte, lo vedi o no? Il ponte quello... ma è per quello che sta scendendo di più. In pochi istanti l'acqua sale fino ai primi piani delle case e chi si trova all'interno cerca in ogni modo di mettersi in salvo. Ma quelle dentro la banca sono uscite? Sono dentro? Con il passare delle ore la paura cresce, la pioggia batte incessante e ci si prepara al peggio. Tende sempre a peggiorare. C'è fatto l'odore di terra, di fango nell'aria. E quando finalmente smette di piovere, Vernazza non esiste più.